...dalla mia terra, solo per voi, sulla bicicletta con una ruota sola! Non ve ne frega niente! Normalmente il pubblico esplode... Sì, però non è uno per prendere per il culo, scusate... È un uno, che meraviglia! Assamiglia a quello di prima, capito? Va bene, vado, eh! Allora! Beh! ric Aud przypot Allora! Allora! Grazie! Grazie! Un momento! Vieni qua, Domizio! Vieni, prendi sta a fare, veloce! Grazie, Domizio! Non ce la faccio più! Donino, vieni qua! Signore e signori, un attimo! Aspettate! Tonino, dati la mano! Grazie! Domizio, dammi la mano! Rimettete il piede! Rimettete le mani! Rimetti la mano, Tonino! Grazie! Signore e signori, io sono a Piricchio, vengo dall'Abruzzo, questo era il mio spettacolo, vorrei ringraziare tutti voi, grazie a tutti! Grazie! 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 Grazie!